Andrea Lignani Marchesani, fratelli d'Italia, sulla E78 si inizia a capirne qualcosa di più e soprattutto si può dire che il tracciato potrebbe, usiamo il condizionale, essere definitivo? Diciamo che c'è stata una importante riunione in giunta regionale a cui ho partecipato con i potenziali partner pubblici e privati, quindi le tre regioni, Umbria, Toscana e Marche, ma anche ovviamente il potenziale partner privato. Diciamo subito che stiamo andando in una stagione irreversibile che è quella della partecipazione dei fondi privati alla realizzazione di infrastrutture che altrimenti non si potrebbero più fare. Il treno per avere una E78 totalmente pubblica e senza pedaggio è stato purtroppo perso nel 2001 quando le due amministrazioni di San Giustino e di Città di Castello e le rispettive prime cittadine di allora litigarono sul tracciato, secondo me a bella posta, per dare l'alibi a Maria Rita Lorenzetti, all'epoca governatrice, di scegliere altre priorità, legacy Perugia-Ancona che oggi è in via di completamento, anche se c'è qualche problema con la società che segue i lavori perché mancano anche lì problemi di fondi economici, di stipendi per i dipendenti. Però di fatto quell'arteria, la Perugia-Ancona, è quasi completata. L'E78 nel tratto Umbro ancora non esiste, non esiste neanche la progettazione preliminare, però è stata in quella sede descritto il tracciato che il partner privato è disposto a finanziare. È chiaro che il tracciato deve rispondere a un requisito, quello di massimo profitto per il privato e minore spesa. Ci rendiamo conto che non è il massimo della vita dal punto di vista dell'etica pubblica, ma è anche l'unica possibilità per fare una strada di cui questo territorio ha vitale bisogno. Un bisogno vitale nel medio e lungo periodo perché ci renderebbe più competitivi come offerta commerciale, ma anche nel breve perché darebbe una speranza di imprese che sono invece sull'orlo della chiusura di avere in un futuro nuove possibilità. Quindi non è un momento di giocare su questo, è un momento di assunzione di responsabilità, cosa che devono fare soprattutto i soggetti istituzionali. Si torna, parlando di tracciato, addirittura indietro di dieci anni, si torna al primo tracciato da Anghiari verso San Giustino. Ma ora io non mi ricordo la cronologia precisa dei tracciati e dico subito che non mi hanno mai entusiasmato i comitati o i progetti culturali alternativi, che oggi però hanno comunque delle ragioni che bisogna comunque riconoscergli, ma è di tutta evidenza che la funzione molto spesso di questi comitati e di queste concertazioni hanno rappresentato ostacoli insormontabili per poter poi andare alla definizione. Oggi di fatto la proposta prevede non più un passaggio per la collina di Citerna, ma un passaggio per il comune di Anghiari, sbucare di fatto all'altezza della E45 a uscita di San Giustino e proseguire attraverso Colle Plinio per arrivare poi a Laguinza, che è un terminale obbligato perché lì la strada ovviamente è già tracciata come progettazione non solo preliminare ma anche definitiva. Fatto salvo alcuni accorgimenti che devono riguardare la salvaguardia architettonica e di sovrintendenza che quelle zone hanno certamente. Però oggi di fatto questa è la proposta, che è la proposta più economica e di questo bisogna prendere atto, prendere o lasciare. Se invece si fa come il sindaco di San Giustino che pretende nuove concertazioni, che pretende nuovi comitati, è di tutta evidenza che non si farà mai giorno. Io comprendo che qualcuno verrà penalizzato da questo tracciato, come sarebbero stati penalizzati i cittadini di Selci nel caso ci fossero state altri tipi di proposte. Ma è anche vero che se si continua con l'ottica del non nel mio giardino non si farà la strada, molte imprese chiuderanno, molti posti di lavoro si perderanno, il nostro comprensorio sarà impoverito. Quindi credo che anche il signor sindaco debba farla finita una volta per tutto, prendere atto di questa proposta, convincere anzi i concittadini della bontà di questa necessità, perché di tale si tratta, e anche delle opportunità che possono esserci per tante imprese altotiberine con questa nuova situazione. Se poi si va dietro al piccolo cabotaggio, anche di stile elettoralistico, faccio un comitato, ne perseguo le ragioni per raccattare qualche voto di preferenza in più, forse si avrà qualche vantaggio per i singoli nell'immediato, ma alla lunga pagheremo tutti questa impasse. Brevemente, l'E78 potrebbe sbloccare altre infrastrutture nel Comune di San Giustino e di Città di Castello? Mi riferisco in particolare alla piastra logistica. La piastra logistica di fatto è già sbloccata. È vero che oggi come oggi è un cavallo zoppo, è un cavallo zoppo perché non ha uno sbocco ferroviario, è un cavallo zoppo perché non ha una infrastruttura di collegamento a incrocio. È chiaro che una piastra logistica serve dove due grandi arterie si incontrano. È vero che così come è progettata si troverebbe qualche chilometro a sud rispetto all'attuale possibilità di tracciato dell'E78 che, ripeto, ancora deve essere sbloccato e deve avere una progettazione preliminare. Parliamo di un'offerta del privato, oggi lo stadio è questo, ma ho anche una possibilità di realizzazione relativamente breve. Parliamo di 6-7 anni che sono ben poca cosa rispetto ai 40 anni che sono passati in vano in questo periodo. Però è chiaro che una piastra logistica, già con un'E78 realizzata anche a 4 km a nord, ha un senso. Oggi la piastra logistica è finanziata, i fondi sono stati sbloccati all'epoca del governo Berlusconi-Terra e quindi quella è una infrastruttura che può essere completata. Di fatto se la completiamo senza altro sono soldi buttati dalla finestra.